Ciao e bentornati sul nostro canale. Recitiamo la novena di San Michele Arcangelo. Ma prima vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi i prossimi video. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio. E allo Spirito Santo com'era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Dila verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Ti domandiamo, o Arcangelo San Michele, insieme col Principe del Primo Coro dei Serafini, che tu voglia accendere il nostro cuore con le fiamme del Santo Amore e che per mezzo tuo, possiamo allontanare i lusinghieri inganni dei piaceri del mondo. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci dalla perdizione eterna. A San Michele Arcangelo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. A San Michele. A San Michele. A San Michele Arcangelo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. A San Michele Arcangelo. Amen. Prega per noi. Arcangelo San Michele. Gesù Cristo nostro Signore e saremo degni delle sue promesse. Preghiamo. Onnipotente ed eterno Dio, che nella tua somma bontà assegnasti in modo mirabile l'Arcangelo Michele come gloriosissimo Principe della Chiesa per la salvezza degli uomini, concedi che, concedi che, con il suo salvifico aiuti, meritiamo di essere efficacemente difesi di fronte a tutti i nemici in modo che, al momento della nostra morte, possiamo essere liberati dal peccato e presentarci alla tua eccelsa e beatissima maestà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie per averci seguito, se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video.